Aperi Street e Praditivo, evento importante, ringraziamo gli organizzatori perché è un'organizzazione che aspettavamo da tempo, un evento che è un brand di eccellenza e uniamo l'eccellenza organizzativa di Franceschiello Eventi e del brand Aperi Street con l'eccellenza territoriale di Praditivo, quindi evento di doppia importanza perché allarga la platea di coloro che verranno a Pisa di Praditivo, non più solamente persone appassionate di montagna oppure gente che viene da noi per le attività tipiche, ma gente che verrà a scoprire questo posto che non c'è stata mai oppure che ci torna dopo tanto tempo, quindi famiglie, persone fuori regione e ampliamo in questo modo la platea di coloro che verranno a conoscere l'eccellenza del Gran Sasso. Altro motivo importante che ci fa essere contenti e anche orgogliosi di questo evento è quello che porteremo gente in un periodo non di massima affluenza, il primo ottobre non è una data canonica per organizzare un evento praditivo, servirà a far scoprire il nostro territorio in un momento particolare come quello dell'autunno. È importante anche perché sarà il corollario, la chiusura della stagione estiva ma anche il rilancio e un aperitivo di quella invernale che verranno i nostri impianti aperti e per la quale stiamo già lavorando da mese in collaborazione con la Gran Sasso di Aramana e la provincia di Teramo.